amici sportivi benvenuti allo stadio di san cataldo tra poco l'incontro tra la san cataldese e l'acragas e la seconda giornata del nuovo campionato di eccellenza girone a è il big match tra le due formazioni che sulla carta hanno l'organico più forte della girone a a caracassin maglia bianco azzurra squadra di casa con la consueta casacca verde amaranto le formazioni in campo l'acragas con giarratana in porta candela giardina ferrante spinelli cipolla licata biondo fricano gambino bulades allenatore francesco di gaetano la san cataldese risponde con dolenti velardi buonocore calabrese di marco d'angelo tuccio quame torregrossa veneroso sess allenatore gaetano settineri dirige la partita il signor palmieri di brindisi insiste a san cataldese sesto minuto del primo tempo palla imbucata per torregrossa giardina cancella l'attacco della formazione di casa attenzione chance per biondo biondo entra in aria si accentra biondo passaggio per gambino la conclusione anzi no prova un dribbling gambino guadagna calcio d'angolo azione pericolosa dell'acragas al sesto minuto del primo tempo angolo per i biancazzurri settimo minuto del primo tempo primo calcio d'angolo della partita lo batte l'acragas sul pallone licata e biondo fischia l'arbitro parte licata palla sul primo palo allontana torregrossa e poi riparte in contropiede la attenzione tre contro due ancora come veneroso stop si accentra col sinistro palla alta sopra la traversa san cataldese vicino al vantaggio al settimo del primo tempo insiste l'acragas attenzione biondo palla per gambino poi spinelli la conclusione di spinelli palla alta sopra la traversa altra bella azione dell'acragas al minuto 12 mette la palla giù veneroso supera cipolla la conclusione di veneroso torregrossa gol rete annullata dall'assistente per fuorigioco di torregrossa tutto questo al diciottesimo del primo tempo ventunesimo ci prova l'acragas avanza ferrante supera un avversario ancora ferrante supera un altro palla imbucata per giovanni biondo la conclusione dolenti c'è occasionissima per l'acragas per sbloccare la partita con giovanni biondo venticinquesimo del primo tempo punizione per la san cataldese la conclusione giarratana e poi c'è il gol della san cataldese ha segnato tuccio su risposta corta del portiere giarratana vantaggio per i padroni di casa 1 a 0 alla valentino mazzola 40 quattresimo in corso di marco per sesso di cata poi velandri cross sul secondo palo tuccio tutto solo prova l'acrobazia poi veneroso la conclusione e c'è il secondo gol della san cataldese il numero dieci veneroso allo scadere del primo tempo raddoppia dei padroni di casa tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di san cataldese acragas quattro cambi per i bianco azzurri in campo viglia cerra c'è anche secanna e la spina veneroso entra in aria veneroso poi qua me la conclusione e c'è la super parata di giarratana angolo per la san cataldese all'ottavo della ripresa settimo calcio d'angolo per l'acragas parte giovanni biondo palla sul secondo palo dolenti e poi c'è il gol dell'acragas ha segnato l'acragas gol annullato ha munito rosario di cata per aver segnato con la mano così ha deciso palmieri rete annullata l'acragas si rimane sul due a zero al minuto nove della ripresa a torregrossa va giù calcio di rigore per la san cataldese fallo di giarratana su torregrossa tutto questo al minuto 17 della ripresa è tutto pronto per il calcio di rigore per la san cataldese al diciottesimo della ripresa raule torregrossa contro giarratana fischia palmieri parte torregrossa la conclusione 3 a 0 per la san cataldese